Buongiorno mister, sono qua. Domani a Franchi ci sarà il settore ospiti pieno, che significato ha per lei questa cosa? Sì, l'ho saputo, sono molto orgoglioso, molto contento di questa cosa, sarà ovviamente una motivazione in più per dare il meglio di noi stessi. Paonessa, Roma TV. Buongiorno mister, le chiedo come sta Daniele De Rossi e visto che se ne è parlato tanto, se ci vuole dire anche cosa gli ha scritto su quel famoso bigliettino all'Everkosen? Ma niente segreto, come quando è entrato Edinzeco ci siamo riorganizzati sui calci piazzati difensivi e allora il capitano doveva organizzare questa riorganizzazione. Solo questo, com'è? Sta meglio, ha fatto l'allenamento oggi, io gli ho chiesto di gestire ancora oggi perché abbiamo 24 ore in più, ma sembra che domani ci sarà. Ovviamente aveva preso un bel colpo contro l'Empoli su una scivolata sua e dopo ha avuto fastidio nel secondo tempo, è normale, il muscolo si è un po' affaticato con questo colpo, questo emato, ma adesso ha fatto due giorni e mezzo di riposo e oggi si è allenato. Sono fiducioso. Buongiorno. Buongiorno. Senta, torna Dzeko, lei dirà no, è già tornato da due partite, però insomma dovrebbe tornare titolare dal primo minuto Dzeko. In quel caso come deve rimoldellarsi? Secondo lei il gioco, visto che nelle ultime partite non c'era un centravanti vero da area di rigore? Ma è una risorsa in più, ovviamente, se inizia o non inizia, è una risorsa in più, è un grande giocatore, è un grande campione, abbiamo preso per questa cosa, sa fare tutto. Per me non è un problema, è veramente una cosa in più per noi, serve di mettere al suo lato giocatori che lo possono servire, ma serve anche di mettere ai suoi lati dei giocatori che possono anche prendere di più la profondità, anche se lui lo può fare anche questa cosa. In un modo differente, ovviamente, ma lo può fare. Per me è solo in più e niente un problema. L'ultima situazione che riguarda la difesa. Fiorentina ha due attaccanti molto insidiosi come Kalinic e Ilicic, otto gol in due. Le chiedo se in una partita come questa può dare più garanzia all'esperienza di uno come Castan o se pensa di riproporre Rudiger che non ha convinto più di tanto a Leverkusen. Era un po' previsto questa cosa di prendere un po' di tempo per sistemare una difesa, sul fatto che sapevamo in sua stagione che per Leo Castan serviva tempo per tornare al suo livello del primo anno, sul fatto che Rudiger è arrivato infortunato e che è giovane, che deve inserirsi, che anche lui ha un potenziale veramente enorme. Non è che ha fatto sette partite con la piccola nazionale tedesca a caso, ma serve tempo e si è infortunato di nuovo. Adesso sta bene, sta al 100% e piano piano ritroveremo la possibilità di lavorare con tutti i giocatori. Penso anche al terzino difensivo dove può giocare Florenzi, Torosidis o Maicon, quelli che hanno giocato quest'anno. Trovo anche il piccolo Emerson in crescita molto interessante, ma è vero che per funzionare bene serve che tutti stanno al 100% e al top della loro forma e delle loro possibilità. E così potremmo sistemare una difesa forse più efficace, anche se, se vedete il quarto gol che abbiamo preso all'Everkusen, non è un problema di difesa. È un problema che eravamo in dieci dietro la pala e che non siamo stati abbastanza aggressivi sul pressing. In questa fase, come l'ho detto, si siamo abbassati troppo e questo non è solo un problema di difesa, è anche un problema generale di squadra. Sapendo che il nostro gioco è anche fatto per fare quattro gol, ci deve prendere un po' di rischi. E che ovviamente questi rischi ti fanno forse essere un po' meno efficace o mettere un po' la difesa in difficoltà. Questo lo accetto, è il nostro gioco, è il mio gioco e finché ci dà risultati continueremo così. Ovviamente cercando un equilibrio più importante e una fase difensiva più efficace. Buongiorno Rudimi, ricollego proprio a questo ragionamento. Una squadra che va in trasferta e fa quattro gol e non vince, quanto preoccupa un allenatore? Perché insomma è vero che c'è un potenziale offensivo straordinario, però non è che si può sempre fare la goleata per portare a casa un pareggio. No, no, sono d'accordo. È una gara particolare questa. Come lo dico, finché faremo dei gol, sono segnali importanti di gioco. Che il gioco ci porta a poter vincere le partite, perché se non segni almeno un gol a partita non puoi vincere e prendere i tre punti. Ovviamente che non siamo contenti con questo atteggiamento, che quando siamo sopra dobbiamo essere più forti sul fatto di non abbassarsi, di tenere di più la palla, perché è anche la possibilità che ha questa squadra. Ma dall'inizio della stagione è successo abbastanza spesso il fatto che eravamo sotto un gol e che siamo stati sempre in grado di segnare e di rimbaltare il risultato, di prendere i tre punti. Se no, non saremo secondi in campionato. Luca Valdiseri, il Corriere della Serie. Ecco, mi sono qua, buongiorno. Buongiorno. Probabilmente la dovrei fare al direttore sportivo questa domanda, ma dato che quest'anno non c'è stato modo di fare un'intervista con lui, una conferenza stampa con lui, la chiedo a lei che probabilmente, anzi sicuramente, ha partecipato ad alcune scelte. Lei dice giustamente che la difesa ha bisogno di tempo, perché c'era un giocatore come Castan che rientrava da un anno di inattività e un giocatore come Rudiger che si sapeva era stato operato. In questo senso, le scelte finali, per esempio di cedere Iangambiwa e anche Romagnoli, sono state scelte necessarie per un profilo economico della società o sono state scelte che non hanno tenuto conto, però che c'erano poi pochi difensori centrali pronti per partire subito? Il campionato è iniziato il 22 agosto, la Champions siamo già a tre partite e lei giustamente mi dice che ho bisogno di ancora un pochino di tempo, però nel frattempo non è che il campionato non c'era o la Coppa o la Champions non si è giocato? No, ma siamo a due punti del secondo posto in Champions, vuol dire che abbiamo ancora la possibilità di superare il turno e siamo secondi in classifica del campionato, vuol dire che inizio a stagione, anche prendendo dei gol, è un inizio a stagione abbastanza buono. Adesso non serve a niente guardare indietro, il mercato è una cosa molto molto difficile e facciamo tutti insieme, ma soprattutto Walter che è un formidabile direttore sportivo, facciamo del nostro meglio per costruire una rosa per raggiungere obiettivi importanti. Dopo c'è il lavoro che io devo svolgere con la squadra e che faccio in modo al più presto possibile che dà i suoi frutti e sul piano difensivo, ripeto, io lotto contro questa cosa di puntare a dei singoli e quando segniamo il primo attaccante è Vojta i Cessni, perché gioca in questo momento, o Morgan De Santis e quando difendiamo il primo difensore è Gervinio se gioca punta o Edinzeco se gioca punta. È sempre un atteggiamento di squadra, dopo quando ci sono errori individuali, ci sono anche errori individuali in attacco, perché a Leverkusen era possibile fare cinque o sei gol, abbiamo avuto anche queste occasioni, la trasversa o il tu per tu. Allora serve di sapere che calcio vogliamo fare e io voglio fare sempre un calcio offensivo, ovviamente con una base forte, perché se non mi sbaglio i due primi anni da quando sono qua, forse abbiamo avuto quasi sempre una delle migliori difese del campionato, di Serie A. Ovviamente che è una cosa giusta di dire che cambiamo questo riparto dal primo anno, l'abbiamo cambiato ogni stagione, ma questa è la regola del mercato e la regola del piano economico. A me non mi interessa questa cosa, la cosa che mi interessa è lavorare bene con la mia rosa, dare il meglio e far ricapire a questa rosa che può ancora fare meglio delle cose che sta facendo, sapendo che io non voglio perdere il fatto di poter segnare a ogni momento di ogni partita. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Buongiorno, se la Roma dovesse vincere domani si ritroverebbe prima in classifica, secondo lei dal punto di vista della stagione questo è già una partita decisiva e l'altra cosa voglio chiedere, ricollegandomi al fatto di essere prima in classifica, e la Roma manca da questo da 700 giorni, da due anni, da quando lei arrivò la prima stagione. Ha detto prima che ha cambiato molti giocatori, ma se dovesse dire oggi la rosa rispetto a quella di due anni fa, al suo primo anno alla Roma, è più forte o più debole? È differente, ovviamente, le rose sono sempre differenti di un anno sull'altra e non serve a niente fare un paragone perché gli avversari non sono gli stessi, il campionato è differente. Dopo, che era la prima domanda, perché ne ha fatto tre guido, no tre, no domani è una bella partita, ho detto prima delle vercuse, in una settimana eccitante perché si giochiavamo una parte a qualificazione martedì, stiamo ancora in corsa su questa qualificazione, nonostante il fatto che eravamo sopra sul tabellone a pochi minuti della fine, ma eravamo molto sotto sul tabellone dopo 20 minuti e questo non lo dimentico, un pareggio alla fine è deludante visto come è accaduto, ma solo in mezzo modo, perché l'altro mezzo modo è che eravamo 2-0 per loro dopo 20 minuti. E allora è una settimana eccitante sul fatto che c'era questa partita di Champions e adesso c'è questa partita contro la Fiorentina, che è un'ottima squadra, che fa un ottimo avvio di stagione, è solo piacere gerocare delle partite così. Mi auguro che questa partita sia divertente come lo era quella di martedì, forse con un gol di meno incassato per noi, ovviamente, ma mi auguro questo spettacolo perché sono due squadre che per il momento, la classifica lo dica, sono due squadre buone o molto buone di questo campionato. Salve, la gara di Leverkusen forse non sono l'unico, ha ricordato per qualche verso la partita di Mosca dell'anno scorso, ovviamente è diversissimo il risultato, però anche in quell'occasione fu un po' un'occasione persa per la Roma, magari non si sarebbe qualificata lo stesso, ma fu un'occasione persa. Visto che non è la prima volta che la sua Roma perde un'occasione, l'anno scorso per esempio poteva andare in testa al derby di andata e fare giochi, riprendendola per i capelli, le chiedo, pensa che la sua squadra abbia un po' la sindrome di sprecare le occasioni favorevoli quando le capitano? Ma ripeto che non possiamo paragonare l'anno scorso o il primo anno a quest'anno, perché se guardate bene ci sono almeno cinque giocatori nuovi nel diciamo l'undici o la formazione iniziale, allora paragone non c'è da fare, soprattutto su un 4-4, paragonarlo a un 1-1 che mi sembra un po' bizzarro, ma su quest'anno non è che siamo sempre stati in vantaggio sul tabellone durante le partite, siamo stati poche volte questa cosa e era una cosa dove abbiamo detto che lo dobbiamo migliorare questa cosa, prima forse del Carpi o qualcosa così, e il fatto di aver fatto il primo gol noi contro il Carpi a Palermo contro l'Empoli ci ha fatto vincere queste partite di campionato per esempio, dopo andare in rimonta abbiamo mostrato che lo sappiamo fare, adesso dobbiamo mostrare che possiamo fare anche delle partite di altissimo livello, il fatto che quando siamo in avanti siamo capace di tenere un risultato, ma c'è sempre almeno due o tre possibilità di dire come tenere un risultato, c'è chi ti mette un difensore in più, noi sapendo che i nostri difensori non sono ancora al 100%, che non c'è seducaità, si può passare a cinque in difesa, l'ho già fatto, ma per me è un modo di subire ancora di più il possesso pala avversario e il quarto gol è arrivato proprio così, tenere la pala in avanti, alzarsi un po' di più il baricentro e poter colpire in contropiede come l'abbiamo fatto sul 2-2 all'Everkusen mi sembra anche una possibilità che può dare i suoi frutti, ovviamente che dopo l'Everkusen chi può dire che mettere un difensore in più può essere più importante, forse aveva ragione, ma sul lungo termine non penso, a parte se è una squadra molto difensiva che gestisci, cosa che non è il caso con il mio gioco, sono cose tattici molto interessanti da pallare questi temi. Il campionato ancora non ha trovato una vera padrona, l'Inter è partita fortissimo, poi è stata superata dalla Fiorentina e adesso sembra che soprattutto il Napoli e la Roma possano in qualche modo insediare la capolista, non le chiedo la favorita per lo scudetto perché è una domanda trita e ritrita, le chiedo qual è la squadra che l'ha convinta di più da un punto di vista puramente del gioco e poi un giudizio su Paolo Sosa che qualcuno ha paragonato appunto al primo Garzia della Roma? Sta facendo bene ovviamente, hanno un'identità di gioco e questo è tutto al favore del suo allenatore, che non conosco personalmente ma che avrò il piacere di conoscere domani. Dopo sul campionato io mi concentro ovviamente sulla mia squadra e faccio in modo di vincere i più partite possibile, dopo vedremo, arriviamo piano piano al quarto del campionato mi sembra e allora la classifica è sempre una cosa interessante da guardare anche se ovviamente lontana di una cosa decisiva ma è sempre interessante da guardare a questo momento della stagione. Rossomando delle Radio Stereo. Salve mister, così è discusso tanto dei problemi tattici della Roma in fase difensiva, io le volevo chiedere però l'aspetto mentale, perché questa è una squadra che spesso quando ha l'episodio negativo contro va un po' in confusione, ha rischiato contro la Juventus di prendere il 2-2, contro il Bad del Borso prende il gol, poi ne prende 3, anche all'Evercuse ne prende il gol del 4-3 e poi va in confusione e prende il 4-3. Le chiedo, secondo lei quanto c'è di problema della testa proprio nei suoi giocatori? Beh soprattutto una squadra quando è in difficoltà, non dico spalle al muro, ma quando è in difficoltà ha sempre una reazione formidabile, l'abbiamo ancora visto all'Evercuse, quante squadre sotto il 2-0 lasciano proprio la gara perché non hanno la capacità mentale di tornare e di credere nel suo gioco. La Roma ce l'ha questa cosa, l'ha dimostrato tante volte dall'inizio della stagione, questa è una forza, adesso forse sì, i ragazzi devono convincersi che quando siamo sopra possiamo ancora giocare per segnare un gol senza perdere un equilibrio ovviamente difensivo, vuol dire sempre fare pressing, sempre provare a alzare il baricentro e soprattutto con la qualità del nostro possesso pala a volte avere più continuità in questo reparte anche sotto pressing adversario e sappiamo che l'Evercuse è una squadra ottima per fare il pressing ma come ne abbiamo trovato altre, l'Empoli per esempio ovviamente e allora sì, dobbiamo essere sicuri o consapevoli che questa cosa la possiamo fare se ci arrabbiamo quando siamo sopra sul tabellone e che non ci addormentiamo forse un po'. Facciamo l'ultima, Lorusso RDS. Buongiorno Garzia, la mia domanda è molto simile a quella del collega, le chiedo se per Allora ho già risposto. Come? Allora ho già risposto. Sì però magari la integriamo. Ma farò una risposta molto simile. Sì, se lei vede per caso da parte della sua squadra un approccio mentale diverso quando gioca con le grandi o con le piccole squadre, legato quindi anche alle motivazioni, se lei pensa che su questo punto bisogna lavorare di più, chiaramente per raggiungere poi traguardi importanti? Veramente non lo penso perché non è che si vince contro la Juventus o pareggi contro il Barcellona se hai un atteggiamento differente che quando giochi contro squadre che fanno parte per esempio della seconda parte della classifica dove abbiamo fatto soprattutto negli ultimi momenti, ultimi risultati, per questo che siamo su tre vittorie da fila. Io mi sembra che le partite che sono difficili sono le partite prima della Champions e dopo la Champions perché questo è ovvio sempre e su queste cose la squadra sul piano dell'atteggiamento per il momento mi ha sempre risposto bene mostrando che è sempre concentrato al 100% sulla partita che si gioca o che arriva e io penso che è il miglior atteggiamento possibile per una squadra, non fare proiezioni sbagliate perché se no ti perdi la partita pensando dopo all'altra. Su questo punto ovviamente domani la squadra sa che è una bella partita da giocare, che è veramente una partita che piace a tutti giocare, dopo ci sarà il tempo di pensare a altre partite che sono belle anche da giocare e tante ma non è il momento, per il momento una bellissima partita sulla carta tra la Fiorentina e la Roma. Grazie. Grazie.